Musica Si era capito già da un paio di settimane l'inizio di quest'anno scolastico anche in Molise risentirà dell'effetto indotto del terremoto del centro Italia. Scuole che non vengono aperte, edifici dichiarati inagibili, famiglie sul piede di guerra, paura strisciante. A Isernia, giusto per citare un esempio, il sindaco da Polonio ha disposto che la scuola d'infanzia San Giovanni Bosco si apra giovedì 15 settembre, mentre la scuola primaria e le scuole secondarie di primo grado San Pietro Celestino, Andrea di Isernia e Giovanni XXIII dopo accurati controlli lunedì 19 settembre. Secondo i tecnici dell'Ordine degli Ingegneri, dei Geologi e degli Architetti, la situazione relativa alla vulnerabilità sismica delle strutture scolastiche, attestata nel lontano 2002, potrebbe essere mutata in seguito agli eventi sismici del 2009 all'Aquila e del 24 agosto scorso nel Reatino. Al dramma del sisma, del resto, fa riferimento anche la direttrice dell'ufficio scolastico regionale, Anna Paola Sabatini, che ha fissato per la fine di settembre l'inaugurazione ufficiale dell'anno scolastico del Molise. L'evento, precisa la Sabatini, si svolgerà simbolicamente a San Giuliano di Puglia, comune molisano, simbolo del terremoto. Insieme con gli auguri della massima autorità scolastica, si registrano quelli della massima autorità politica, Paolo Di Laura Frattura. Il presidente della Giunta regionale affronta in termini decisamente costruttivi il tema della sicurezza, facendo riferimento non solo a interventi di tipo edilizio, ma anche a una vera e propria ristrutturazione del sistema scolastico molisano. Una soluzione è il polo scolastico intercomunale, nuovi insediamenti a norma, piccoli campus funzionali e completi, cita per esempio, e conclude con un pensiero speciale per i bambini, i ragazzi, gli insegnanti, i presidi, le mamme, i papà, che in questi giorni guardano al ritorno in classe come al diritto principale, più giusto e più bello da vivere. Il Molise centro-orientale è stato sconvolto da due giorni e due notti di maltempo che hanno causato danni da Larino fino alla costa e ancora più nella zona di Trivento. Ora, a freddo, si incominciano a calcolare i danni. Sbottamenti, movimenti franosi di vaste proporzioni, strade parzialmente interrotte, perfino un ponte crollato e qualche edificio danneggiato. È la storia di sempre di un Molise vecchio e dissestato che cade a pezzi e non solo a causa della particolare e svantaggiata natura geologica. Da decenni, molti decenni, si parla di dissesto idrogeologico. Vi hanno posto mano giunte regionali come quelle di Daimmo, di Santoro, amministrazioni provinciali come quelle di Rufo, di Caranci, a Isernia. Ma tutto è rimasto come prima, sostanzialmente perché il Governo non ha mai deciso di mettere a disposizione i fondi necessari. Ora Renzi dice di voler varare il piano Casa Italia, in cui i nostri politici dovrebbero inserire anche questi problemi del territorio molisano. Sarà la volta buona? Intensa l'attività dei carabinieri del comando provinciale di Isernia durante il fine settimana appena trascorso. Pioggia di denunce e sequestri per reati che vanno dalla guida in stato di ebrezza e sotto l'influenza di stupefacenti al disturbo della quiete pubblica fino ad arrivare allo sfruttamento del lavoro nero. Nel dettaglio, a Isernia i militari hanno denunciato un trentenne campano sorpreso alla guida della propria auto dopo aver assunto Ascish. Nei suoi confronti è scattato anche il ritiro della patente e il sequestro del mezzo. Stessi provvedimenti anche per un cinquantenne di Frosolone denunciato per guida in stato di ebrezza. A Monteroduni, invece, i carabinieri hanno denunciato per disturbo alla quiete pubblica i gestori di un locale che in piena notte diffondevano musica ad alto volume disturbando i residenti della zona. Infine, tra Isernia e Pozzilli, sono finiti nei guai i titolari di due attività imprenditoriali per sfruttamento di lavoro nero. Avevano impiegato nella loro attività lavoratori senza alcun regolare contratto. Ladro di auto si lancia in una folle corsa in autostrada perché inseguito dalla polizia stradale. È accaduto stanotte sulla A14, erano circa le 4, quando gli agenti hanno notato una Citroen C3 che procedeva sulla carreggiata a suda a forte velocità. All'alta della polizia il conducente non si è fermato ed ha continuato la sua corsa verso il castello di Termoli dove ha tentato di lasciare l'autostrada. Ma gli agenti sono riusciti a bloccargli le vie di fuga tanto da costringere il ladro, ormai vistosi braccato, ad abbandonare il veicolo e darsi alla fuga a piedi nelle campagne circostanti. Le ricerche del fuggitivo, effettuate anche con l'ausilio di una volante del commissariato di Termoli, hanno finora dato esito negativo. A seguito di accertamenti, la Citroen C3 è risultata rubata poco prima nel centro abitato di Lanciano. Sono ora in corso ulteriori indagini per identificare l'autore del furto. Rinviata la seduta del Consiglio Comunale di Isernia in programma per domani in cui si sarebbe dovuto discutere della mancata riapertura della piscina. Il motivo ufficiale del rinvio da ricercare nell'assenza del segretario generale che la scorsa settimana aveva lasciato l'ente di Palazzo San Francesco. Una situazione che non ha mancato di suscitare polemiche tanto da spingere i due consiglieri di minoranza di Alleanza per il Futuro, Giovan Carmine Mancini e Andrea Galasso, a convocare una conferenza stampa. L'incontro, nel quale verranno affrontati vari temi, tra cui la mancata riapertura della piscina ma anche il caos sulle scuole, è fissato per domani mattina. Trasporto alunni disabili alle scuole superiori. Dopo un summit in regione, la provincia di Isernia assicura la prosecuzione del servizio anche per l'anno scolastico in corso. Lo annuncia il presidente dell'ente di Via Berta, Lorenzo Coia, che si dice soddisfatto dopo aver più volte esternato l'impossibilità di far fronte a tale servizio in assenza di uno specifico stanziamento di risorse da parte della Regione, in quanto non rientrante nelle funzioni fondamentali esercitate dalle province a seguito della riforma del Rio. Il trasporto disabili con il servizio taxi della solidarietà attivato dalla provincia di Isernia proseguirà dunque fino alla definitiva assegnazione del personale a seguito della mobilità attivata. Intanto oggi presso Lupi, annuncia sempre il presidente Coia, incontro decisivo per le sorti delle due province molisane che beneficeranno del riparto di 148 milioni di euro stanziati in finanziaria per ripianare i bilanci delle 40 province in predisesto. Le nostre, spiega, ancora non approvano i bilanci preventivi per l'assenza dei dati definitivi di entrata. Infine, anticipa il presidente della provincia di Isernia, domani sarà sottoscritto l'accordo tra Regione Molise, Provincia e Ministero dei Beni Culturali sulla valorizzazione dei beni culturali molisani. Tra questi la Biblioteca Albino, il Teatro Italico di Pietrabbondante e il Paleolitico. Taglio del nastro questa mattina presso il nuovo plesso scolastico di Pozzilli. La struttura ospiterà i ragazzi delle medie. Lo scorso anno trasferiti presso il polo didattico dell'Istituto Neuromed dopo i crolli strutturali registrati nello storico edificio di Via San Marco. Da oggi, dunque, gli studenti potranno seguire le lezioni in un plesso sicuro, in quanto costruito nel rispetto delle norme antisismiche, ma anche moderno ed innovativo grazie alla presenza di aule multimediali. Clima di festa questa mattina a Pozzilli, dove studenti, genitori, personale scolastico ed autorità hanno inaugurato la nuova scuola. Tra i presenti, insieme al sindaco Stefania Passarelli, il presidente del Consiglio regionale del Molise, Vincenzo Cotugno. Da registrare inoltre il prezioso contributo fornito da diverse aziende del nucleo industriale di Pozzilli che hanno donato gli arredi per il nuovo edificio scolastico. Grande successo per la festa dell'uva di Riccia. La manifestazione, giunta alla sua 85esima edizione, ha richiamato in paese numerosissimi visitatori, affluiti da ogni parte, per ammirare i 18 carri che hanno attraversato le vie del centro molisano. Così, ancora una volta, a Riccia si è dato seguito ad un antichissimo rito che unisce tradizione contadina e fede popolare. La festa dell'uva, infatti, è una ricorrenza da decenni legata alla solennità della Vergine del Santissimo Rosario. Come detto, momento clou della manifestazione, è stata la sfilata dei carri, con i loro straordinari addobbi viticoli, accompagnati dalla musica dei gruppi che si sono esibiti dal vivo con l'accompagnamento di strumenti musicali tradizionali come organetto, fisarmonica, zampogna, ciaramella e tamburelli, ovviamente vino e buon cibo. Il tutto nel pieno del rispetto della tradizione. Oltre 400 gli atleti che si sono sfidati nel mare di Termoli nei campionati nazionali giovanili di vela in doppio, iniziati lo scorso 8 settembre e conclusisi ieri. I campionati sono stati organizzati dal locale Circolo della Vela in collaborazione con quello di Ortona e con il Circolo Nautico di Vasto, con il contributo del comune di Termoli. Per l'occasione è arrivata nella città adriatica molisana Alessandra Sensini, campionessa olimpionica e direttore tecnico del settore giovanile della FIV. Dopo tanti anni e con una certa emozione sono tornata al Circolo della Vela di Termoli, dove nel 1984 ho disputato il mio primo campionato italiano windsurfer, ha ricordato la Sensini spiegando che nei giorni delle gare a Termoli sono arrivati come osservatori i tecnici federali Louis Rochard e Nicola Pitanti, in quanto questi campionati sono parte delle regate di selezione per la squadra che verrà scelta per partecipare ai mondiali IAT ISAF 2016.